eccovi qua la libraia sta facendo la vetrina vetrina con il libro di enrico galiano più forte di ogni addio libro che sarà presentato il 25 ottobre qui in libreria e poi il 26 mattina a scuola con gli studenti e l'alberghiero questa storia ha come protagonista dei ragazzi che vanno all'ultimo anno del liceo chissà se tra loro nascerà una storia o no ma quello che mi ha colpito di più della presentazione è che dice enrico galiano torna con un romanzo che ci ricorda che ogni momento è importante soprattutto quello in cui dire alle persone che amiamo che cosa significano per noi è davvero fondamentale bisogna farlo subito senza aspettare e come vedete ho già il fiatone solo per stare un pochino abbassata sono particolarmente raffreddata il lavoro nobilita l'uomo e allora vediamo di fare una bella piramide che possa attrarre i passanti attrarre anche voi vi aspetto venite a comprare il libro cominciate a leggerlo così quando ci sarà la presentazione potrete fare tutte le domande che volete a questo gran figo lo dico tanto lui non ci seguirà non lo hashtag non lo taggo così non lo sa quello che sto dicendo quindi importantissimo essere pronti per incontrare uno dei professori più amati e più seguiti d'italia vi aspetto 25 pomeriggio ore 18 e 30 libreria galli ciao ciao